Buongiorno, sono Ignazio Messina della Ignazio Messina CSPA, compagnia di navigazione, sono l'amministratore delegato. Noi siamo nati oltre cent'anni fa come compagnia di navigazione e poi nella nostra vita lavorativa abbiamo iniziato anche a fare altri mestieri integrandoci verticalmente nella catena logistica, quindi siamo anche terminalisti portuali, trasportatori e trasportatori intermodali. Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa perché è vero che noi siamo internazionali come azienda, nel senso che lavoriamo molto all'estero, ma abbiamo la sede qui a Genova, abbiamo il termine portuale qui a Genova e non nascondiamo che abbiamo difficoltà a trovare personale qualificato, non tanto qualificato dal punto di vista della professionalità che possono rappresentare, anche perché i ragazzi che studiano, tutti abbiamo studiato all'università, ci insegnano le basi del mestiere, ma non il mestiere in sé, quindi da quel punto di vista lì non siamo alla ricerca di chissà che cosa, ma siamo alla ricerca di gente che abbia fame di lavoro, che abbia voglia di mettersi in discussione, che abbia voglia di intraprendere, che non vuol dire diventare imprenditori, ma di intraprendere la propria vita, di fare delle cose, di mettersi in discussione, di uscire dalle zone di comfort e lavorando all'estero noi abbiamo grandi difficoltà a trovare per esempio come qualifiche di lavoro rappresentanti della nostra compagnia all'estero, nei paesi africani e nei paesi del Medio Oriente. E qui a Genova abbiamo qualche difficoltà nel trovare personale qualificato sia nell'ICT, nell'Information Technology, per sviluppare software, perché le compagnie di navigazione quasi tutte hanno un proprio software di business e quindi abbiamo bisogno di ragazzi. È vero che i ragazzi vanno spesso all'estero a studiare, o perlomeno fuori Genova, a studiare, a avere le prime esperienze lavorative, spetta a noi come aziende a rendere attrattiva Genova per ritornare a lavorare qua.